ciao ragazzi come state io sono sempre mario il coach e ti presento ancora una volta l'allenamento del giorno perché ormai lo sai da lunedì al venerdì io parico tutto i nostri allenamenti quindi quello che succede in palestra vediamo quello di oggi attenzione riscaldamento stazione a e stazione b il riscaldamento è una parte fondamentale vero che tu lo fai giusto comunque guardalo bene poi durante il workout vedrai questi esercizi sarebbe lungo a spiegarti di ogni allenamento ma se vuoi qualche spiegazione specifica me la scrivi sotto quindi prova ad eseguire questa stazione a stazione b e poi ci vediamo alla forza ciao grazie a tutti eccoci qui dalla forza ragazzi quindi bench press direbbero quelli bravi sono distensioni su panca piana quindi bilanciere vuoto fai qualche altra esecuzione vuota l'idea di questa forza è trovare un peso che ti consenta di fare 6 per 1 e portarlo fino a 8 per 2 quindi con lo stesso peso fai questa crescita mi raccomando migliorare la forza non è semplice noi l'abbiamo costruita step per step i miei allievi si sono messi alla prova e hanno fatto dei miglioramenti notevoli se tu vuoi qualche informazione in più su come si migliora la forza mi scrivi sempre nelle descrizioni ci vediamo al workout ciao ragazzi workout finale un giro secco ma attenzione tanta corsa e tanti addominali quindi 800 metri di corsa e l'inizio e 200 saranno alla fine e in mezzo ci sono gli addominali e i dips alle parallele quindi occhio agli esercizi mi raccomando alcuni di questi esercizi sono molto avanzati perché stressano moltissimo anche le articolazioni noi abbiamo fatto le dovute preparazioni prima di metterci in gioco se tu hai qualche domanda o qualche dubbio vuoi sapere come si possono migliorare questi esercizi in tutta sicurezza mi scrivi nelle descrizioni e se guardi bene ci sono nelle descrizioni alcuni link utili che ho creato su come seguire determinate esercizi in tutta sicurezza io ti dico grazie a aver guardato questo video iscriviti al canale o al massimo lascia un mi piace e noi ci vediamo domani ciao allenati bene ciao ciao